Cosa è a Rino che scrive sul gruppo? Sì Guarda che bella la skin di Kallari Maestro, guarda che maestro che sono Aspetta Aspetta Sì sì, non voglio Maazzo 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 Metto qui Maazzo 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 Avete proprio doppio carry a Biff Loro doppio carry C'hanno Sparrow, Revenant Spappro Eh Sì, i carry e gli spappro Di però c'hanno Chimera, Grayson e Bellica Guarda là Tutti là già Tutti al centro Ehm, per quello Sparrow c'ha Pure Non so Sparrow ce l'ho qua Se parte con quello Con cosa è partito? Sparrow? Sparrow Con quello per la difesa Ok Mide 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 la Mide la corsia di tutti Guarda, mori che scelte Se vedevano da un'ora e mezza che stavano Si, erano la Eh si, erano la Si vedevano bene, si guarda la Pam Stimo lavoro Eh, va bene, c'ho due carry io qua Due che mi sparano Che bello Uno che mi tira le Q e mi toglie praticamente tutta la vita Sto uomo riesce a andare a farlo Ok Qua c'è Revenonzio vero? No Stac Ora Meno non si è sparito di qua Eh Si è tanto umido E' un'ora e' un'ora E' un'ora e' un'ora e' un'ora il d'è C'è guarda? C'è un'ora Attaccia Anno Tan La F*** Parro C'è gente da PC di là, è Revenant e Chimera. Perchè ti vieni a prendere questo, morica, c'è questo è del giunglo, oddio tuo. E perchè non dicappare, già una che parte, che ti vedi che sono tutti al centro e va là a farti prendere al centro, vuol dire che sei veramente handicappata. Ora ti ho preso pure invisibilità, ho preso pure Chimera, bravo, direi che hai la spella e poi ti perdi invisibilità, bene, occhio a Chimera, qua, farlo, sono brava, eh, se no. Tu sei, mi vieni a tenere un attimo? Vedi che mi metto la gamba da extra? Sì, un attimo, qua mezzo metro e vedi, guarda, vedi, 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 vedi. Mamma mia, che stupendo, mi abbasso, se vedi, vedi, vedi. Oh, oh, sparro qua muore. Sparro, qua hai fatto la tua. Ancola. Vieni, morica, porco Dio. Noi qua mi stanno a uccidere i milioni, no. Non ti voglio essere. La sparro ha fatto l'errore. Mentre era sotto Torre, li sono passato avanti, ha beccato me, ho visto che l'ha beccato un colpo di Torre. No, 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 tu qua ci devi rimanere. Zizzaga, eh, quella è da... È ammazzata, sparro, l'ha ammazzata? Sì, sì, l'ha ammazzata, l'ha ammazzata. Però, c'ha la tastiera, eh, c'è la PS4, ma c'ha la tastiera, perché si muoveva, si giacava come una merda, proprio. Attento, mid. Bass del fiume, bass del fiume tra pochissimo, un po' a loro non se l'era fatto. Me lo faccio io, me lo rifaccio pure tra 5 secondi, 3, 2, lei è inconsapevole che io sono qua. Però, guarda, come me la ragazza c'è, lo vedo, sì, lo vedo, sì. Bueno, però, che è successo, si è deciso di suicidarsi, belli, gallo. Ah, ma più, sì, ricordi. Anche me lo faccio, diceva, no, è un certo senso. non so che mi vuoi zompare camera, lo so benissimo, ti vedo vengono sotto torre si si sto dentro camera si sta prendendo i colpi della torre camera muore camera muore buono, anche sparro alza, alza, fai tutto no, non è spesso no, no, fai un culo fiscia tutto no, ho preso il dash, ma no, ho preso quello che è andato dai che torna no ok 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 la vedo, la vedo guarda qua che m'ha alzato da invisibile m'ha alzato mori che esce mi dico adesso eh ma ci arrivo ma ci arrivo m'ha alzato qui mamma sulla bocca di sparro no no sparro, hai sbagliato c'è c'è camera che m'ha alzato giungla no no c'è camera che m'ha alzato il loro camera senza carte mi piace allora, ma no, mi sa che trolla, mi sembrava di livello tipo 12, qualcosa del genere wow lo sparro di merda no, della sono morti tutti molto male io la ulti ce l'ho ma se vado di là mi tritano ma comunque il loro sparro gioca bene non ne mista di colpi vanno ok, io mi faccio lei vai 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 in mezzo ai minion no no guarda quanto è rimasto guardalo ah, pure minion eh sì porca troia, porca vai Morikesh dai che se li fai marchio li fai da ulti Rictor te la grabba no non grabba niente eh adesso puoi fargli da ulti e muore così è morti deve morire mi sono osservato di che livello sono? crte io vabbè 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 che me ne muori vabbè che me ne muori vabbè vabbè allora non c'è però non ho messo la carica Reven al tuo dio lo scondo Sparro tu non mi vedi vero? Adesso io vengo lì e ti trito C'è tanti mini no però Oh muoio 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 ma non ci credo ma guarda come si sta qua è buona forte eh Nessuno che viene a sinistra una volta guarda ci arriva Mori che si si dai che se la fa E' brava è un loro sparro se la vedi occhio ma che brava Due due, no c'hai il lume, no c'hai il lume Centro ci fanno, centro Nooo della bomba Nooo della bomba No a mid, no a mid, no a mid Roba qualcosa Ocola senza mana? Vuole ricollare? Qua c'è camera, camera o più 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 Se lo fa arrivo pure io Arrivo Sotto uno in bocca Sotto uno in bocca Sotto uno in bocca Ehm Mi fa soffrire quella sparro perchè brava non posso ingaggiare, cioè posso pusciare ma se la ingaggio in mezzo ai mini non mi ammazzo Ma qua la torre va, sicuro, entra, tira due minchiate Ah, meno mano, quindi Ma dove andate? Ma perchè c'ha il lume lei, c'ha il lume, avrà messo il lume da dove arrivavamo Poi Al destra Al destra Al destra Oh, vuole che non ha gretto Lo c'è Trevenant Se viene grabato Ah, c'ho bellica dietro Tre Sei Ancora due 2 punti alla prima 1 ora sono più che 2 buona stecca di là mano per scappare ce l'ho no sparro senza vita? no 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 però che a me è bello gli animoni ho proprio la shadow che ti vedo sparro la torre ce la faccio tanto fai quello che vuoi la torre è mia allora lì il lume oh minion guardatelo rompetelo ah l'ha visto un minion ok la senza vita chi è greyston quello la l'avrà già sfregata ah ah lì 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 davvero vaj Vai Morica, vai Morica! Oh ma c'è da dare aiuti? Che è che è? Corolla senza vita? No, senza vita ne scrivo, non è la vita. Bravo, così e blocchi il vecchio e ora me ne è morto. Vabbè, me l'avete fatto. Io vado 12. Ma l'onoremenant è staffa. L'onoremenant... 06! Mi piace! No, 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 ma c'è tornata. Ho visto in mezzo alla mappa. Mi piace 06. Ho già morto, ho mortato io. Vabbè, mi è meglio. Spari, va, sparo! Sparro! Adesso però, mo' mi sono cattato, eh! Oh, io mi donna! Eh, però ti facevo quasi, eh! Ti pre... sono andato per sicurezza ma... Ha tirato l'ultimo, mi sa che l'avrei fatta, eh! Qua c'entrò qualcuno. Un blu acero. Io arrivo. Buono! Grayston, l'ha usato l'ultimo? Grayston ha perso l'ultimo, adesso l'è stato. Ok, perdiamo. Eccolo qua! Vieni qua, che è nero! Vieni qua, che c'ho pure il nero! Vieni, 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 vieni! Dai, dai, che salta! Bravo, 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 che è nero! Così! Così! Vieni qua, bravo! Vado io! Sta andando Morikesh! Allora, siamo a Morikesh di gollo! Metto il golem! 8 più 3? 8 più 5 fa 13, no? Sì! Bravo, Morikesh! Quattro, un ecco, 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 un torna prima in mid Morygash, lo vede che ci sono io qua, ah vai là no? eh, bravo, vai da gank guarda come ne aziono tutti, stai inazzo insieme e mi facciamo io, vedi ma sbarro la funga buono no, tutti che attaccano, tutti pieno della vita io push eh, tu là eh, aspetta eh c'è, c'è un uovo, c'è un uovo senza vita, vedi, c'è un uovo senza vita mo ci guardo vediamo un po' chi è guardalo lì tu sai che c'è, ah, beh, è bene con l'invecibilità eh, è già sparata oh, 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 guarda qua, guarda qua, pugnale no, 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 no vieni qua tu vieni qua dove vai? guarda là là guarda là là oh, sto coglione continua a colpirmi dove è andata? dove è andata? eccola là oh, io qua, me ne devo andare mi finisce l'invisibilità mi trovo in mezzo all'ora e muoio l'hanno seguito tutti e ora vanno a morire stanno a combattere l'angium, è vero? eh, sì, morivo ma eh, no eh, no eh, no, troppo tardi, ma va a te però aspetta, chi c'è ancora? c'è Rictor e Rictor morirà poi ti arrivo, ti tiro un coltello e me ne vado parco Dio tre punti io c'ho l'invisibilità a sinistra c'è il Nabbo e la Sparrow che spingono su potremmo farci loro no posso entrare in invisibilità anche io appena arrivi qua sì, sì, sono 10 di più vado già? vado, eh? vado vado andiamo prima su Revenant, eh? sì ok, con lo Nabbo, così muore subito se lo alzi sì ovvio, eh? eh? coltello ok, mo' sparro mo' sparro buono uno te e uno io, no? l'abbiamo preso sì perfetto la c'è Belia che pure dovrà morire se c'è qua, non c'è un minco solo destra solo destra l'orbe prime un lumi qualcuno di noi c'è la lumi beh, sicurati niente lumi, eh? qua sono tre tra di là? allora io pusho qua sinistra che cos'è qua? io sono po' ammazzare tutti, eh? vai vai lei lei e è qua qua sul la sua muori sparro muori 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 porco dio muori l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ho ancora la fare per scappare mi verrà venato morirà anche lui a bella torre me la faccio bellica muoio 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 via 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 ce la faccio ce la faccio guarda guarda è mi segue si sto bene incontro vai 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 si è mollato come andamani che ricollo ma questi sono 8 punti guarda qua posso già mettere questo livello non ho 17 via posto Ormals 1 2 3 4 5 Οw chi która sans vità lelara Chi która Chi która Bellica Bellica Guardala Bam Waka No 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 minion de merda Aiuto 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 Un'aline Tower è in attacco Stiamo giocando tutti noi Ci manca qualcuno Sparro qua sotto Si fa la giungla Vai vai Tu fatti la giungla che io ti faccio la torre Ah hai tirato l'ultime così Brava Adesso non ce l'hai più Anche Greystone Via 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 Vivono tutti Ma ti rallenta pure La Q di Greystone No Mi viene l'affare No c'è qualcosa Ah c'è lui La lenta d'aria Ok Ha quella bianca da 7 no? No ha quella nera da 4 e 8 No Perché si è rimasta la migliaia Oh lì c'è solo Greystone Revenant è andato indietro Oh c'è fa sparo senza rida però Sì 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 Dov'è? Dov'è? Eccola là Eccola là BAM Gira le giro Arrivo 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 Sto arriva sto arriva col tendino Stiamo ammesso l'idea Morto Sto andando a sinistra Sto andando a sinistra Sto andando a Richter Eh ma Richter Richter cosa sta facendo? 4-6 Vabbè dai Dai che però Greystone magari lo ammazziamo Se non entra Sì io sto senza rida Quindi do due corpi e vado No 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 Altro che due colpi Muore Oh via 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 Col tendino Fermo Guarda lì Ottimo Sei morti di nuovo Oh orb Facciamoci l'orb Facciamo Almeno io vado a fare l'orb Io sto senza rida da nessuno Vabbè beh ricolla e viene Ricolla e viene Tanto qua Aspetta che ci facciamo pure bellica al centro Ignara di tutto Grappala Grande Grande Richter Col tendino BAM Stamia Cazzottino No 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 magari Ti ho messo adesso Vado a farmi l'orb Ce la dovrei fare C'ho ruba vita C'ho tutto Mi manca solo la carta da 7000 gold Buff del fiume fra 6 secondi Ma che c'è qua? C'è Raven Vabbè se arriveremo Me lo faccio pure No Se lo fa mori Che c'è Ravenant Muore 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 Senza vita la Ravenant eh Senza vita? Si non può vedere e non lo vede no mica si va in base preso preso guarda qua un real per me arrivo al centro e arrivo anch'io sto senza vita però chi è ma chi è greystone quello non c'è nemmeno l'ultima e te mi sa guarda qua il coltellino in faccia che non se lo aspetta anzi fendente mio il compensatore quant'è che costa più 10 di 3 di vitalità no ok allora ancora due punti lo metto e poi dopo se c'è tempo metto quella da 7000 gold sparro tu morirai sparro adesso tu non lo sai ma muore guarda qua guarda qua tac 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 via è morta facciamo torre io ho visto ho visto che l'hai presa te qui facciamo inhibitor c'è greystone fottiamoci nel cazzo di greystone lo faccio lo faccio guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua e poi oh revenant ho anche 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 cosa coltellino famma dai revenant non scherzate bravo bravo così revenant così vai che mi faccio pure bellica no vabbè siete fatta voi pure l'ho presa l'ambigliabile buono bolland abbiaio però eh eh sì anche io sinistra stanno spingendo destra stanno stringono i minio sono tre morti e però andiamo a destra eh io arrivo mi metto mi metto il compensatore lo giochi ci sono Tutte cose Guardalo qua Perché non me lo fa mettere? Ah perché mi manca ancora un punto Metto Voilà Che faremo a destra loro A sinistra spingono loro Centro non c'è più Se vuoi posso arrivare con la ulti Aie aie Guarda quello lì Pum E muore Eppure tu muori Oh oh Ma di mia uscita Stai dicando Ma vuole tirare la ultima Eh ma magari lo facessi Ma non sai che? Guarda Guarda lì Tac 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 No ti ammazzo pure Ti sono bersagliato dalla torre Guarda Ma 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 me la frega io Spacchiamo sto coso Spacchiamo tutti Dai io da Oh fra lì Muore vero? Bellica No bellica si fa Bellica guardala che freda succulenta Quella è mia Quella è mia Contellino No La freda aieie Attenzione Bene Mega string Mega string Ip